A Messina la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di confisca emesso al Tribunale di Messina che ha colpito l'ingente patrimonio di Nunzo Ruggeri, imprenditore di naso in provincia di Messina, operante nei settori della macellazione e della commercializzazione all'ingresso di Pellame. Il core business di Ruggeri non era l'attività illecita, bensì quella usuraria protattra per anni e quella di eliminazione della concorrenza. Secondo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Santo Lenzo, legato ai clan mafiosi dei Nebrodi, è emerso che Ruggeri, sin dal 1999 tramite il referente del territorio Carmelo Armenio, aveva chiesto che fossero incendiati i mattatoi di Sinagra, Barcellona, Pozzo di Gotto e Giammoro, impegnandosi nel contempo a versare 50 milioni delle vecchie lire all'organizzazione mafiosa, circostanza che lo avrebbe favorito eliminando di fatto le attività economiche concorrenti. L'intento criminoso non era mai giunto a compimento per l'opposizione dei rappresentanti della criminalità organizzata barcellonese. L'attività investigativa della DIA ha permesso di accertare come Ruggeri, pur non avendo formalmente dichiarato redditi sufficienti a giustificare le sue smisurate disponibilità economiche, si è riuscito ad accrescere il proprio patrimonio personale e imprenditoriale, grazie alle illecite condotte usurari, ricorrendo anche all'intestazione di beni a congiunti e parenti. In particolare sono stati intercettati innumerevoli versamenti di contanti, confluiti nelle casse della società dei Ruggeri, attraverso i quali lo stesso ha conseguito anomali incrementi di ricchezza, spiegano dalla Direzione Investigativa Antimafia. Il provvedimento di confisca ha interessato compendi aziendali, beni immobili, beni immobili registrati e rapporti finanziari, il cui valore complessivo è stimato inoltre 8 milioni di euro.